Ed eccoci al secondo titolo stagionale della Palacanestro, dopo la Supercoppa Italiana. Un'altra Coppa, Italia, contesa dalle otto formazioni che, al Nelson Mandela Palaforum di Firenze per quattro giorni, si contenderanno l'ambito titolo. Per il nord-est non c'è Trento, ma solo Venezia, che non ha buoni ricordi della competizione. Giovedì, alle 20.45, Peric e compagni se la vedranno con quella Torino che già li ha sconfitti al Taglierci in campionato e che propone alcuni nuovi ingaggi, così da risultare particolarmente imprevedibile. Credo che sia motivo di grande orgoglio esserci a questa Coppa Italia, primo perché la nostra sesta partecipazione in sette anni vuol dire che è una società che sta ad alto livello per tanti anni consecutivamente, poi perché, come giustamente ha detto qualche mio collega, quest'anno è un campionato molto duro, molto equilibrato, poi ci sono le soliti diatribe verso l'alto, verso il basso, la realtà è che è un campionato equilibratissimo e sono rimaste suori squadre di primissima fascia, vedi Reggio Emilia, vedi Trento, vedi Sassari, tante squadre che giustamente possono ambire a un posto nei play-off e nelle prime posizioni di questo campionato. Quindi questa è la prima valutazione. Per quanto riguarda invece la nostra valutazione è naturale che sappiamo qual è la nostra storia in Coppa Italia, è una storia fatta di eliminazione al primo turno e quindi, come ho detto ieri, ci piacerebbe riuscire ad andare avanti perché quelli che sono lì sono tutti per vincere. È una manifestazione che si gioca tutta di un fiato dove ci sono questi quattro giorni magici che per gli sportivi, se credo, siano veramente bellissimi perché ci sono otto squadre in quattro giorni, si vedono giocare tante volte, ma noi cercheremo come tutti di andare lì per fare il meglio possibile. In più si gioca, diciamo, nella mia terra e questo per me è motivo in una città fra le più belle che ci sono in Italia. Quindi ci sono tanti, e spero che i miei americani abbiano magari un pochino di tempo per andarla a vedere. Quindi ci sono tanti elementi di una manifestazione terribile perché, ripeto, si gioca veramente a tempi stretti, ma per quanto ci riguarda l'obiettivo è assolutamente quello di cercare di andare avanti e superare per noi in questo momento il primo turno, però è naturale che andiamo lì per vincere. Come ci arriviamo? Ci arriviamo, come ho detto ieri, con consapevolezza, sereni, perché stiamo comunque facendo un'ottima stagione e quindi ci arriviamo anche con la consapevolezza di chi l'anno scorso ha vinto un campionato e questa consapevolezza deve tradursi in una maturità in campo. Devo dire che sono un po' stufo di delusioni, tornare subito dopo primo giorno, quindi spero che questa volta sarà un po' diversa.